Bufale al tempo della pandemia, quando la fantasia supera la realtà o meglio, si fondono tra loro ed il passaparola fa tutto il resto. Con storie di cui non si conosce l'origine, ma che continuano a propagarsi forse anche più velocemente del virus stesso. Con particolari che man mano che l'aneddoto inizia a girare, assumono contorni sempre più definiti. Solitamente queste fake news prendono corpo sui social, ma in questo caso sono stati gli stessi cittadini a farsene veicolo. Ed allora vediamo la storia che in queste ore gira con insistenza nel Cossatese. Sono in molti coloro che ne parlano ed alcuni hanno riferito anche di averla vissuta in prima persona. Ma così come ci impone l'etica, visto che dobbiamo rendicontare i fatti con tanto di approfondimenti e non pettegolezzi, abbiamo contattato i referenti e i dipendenti stessi che hanno smentito. Ma andiamo per ordine. Stando alle voci, tutto sarebbe iniziato nella farmacia di fronte ad un noto supermercato della zona, dove due signori avrebbero eseguito un tampone, una delle due sarebbe risultata positiva. La prima avrebbe sentito l'esito della seconda e poco dopo sarebbe andata a fare la spesa, dove avrebbe visto la signora positiva al virus, a girarsi tranquillamente tra le corsie del supermercato. Impaurita dal rischio di contagio, avrebbe contattato la direzione che a suo dire avrebbe chiuso il supermercato, abbassando le seracinesche ed allertato a microfoni i clienti. Invitato, chi sapesse di essere positivo al covid-19, di avvicinarsi al bancone centrale. Per evitare che arrivassero i sanitari ad effettuare il test a tutti, con tempi evidentemente prolungati. La fine della storia è sconcertante, come ogni racconto ad effetto. Al bancone d'ingresso si sarebbero avvicinati in 12, quindi 12 persone che sapevano di essere positive al coronavirus. Nonostante questo, andavano tranquillamente a fare la spesa. Ora, noi abbiamo contattato diversi dipendenti che in via anonima e informale hanno riferito tutti la stessa cosa. Noi non abbiamo mai assistito a nulla del genere. Però, per avere certezza ufficiale, abbiamo raggiunto anche il direttore di filiale, che ha smentito nel modo più assoluto, rimandandoci anche all'ufficio stampa centrale. Ha inoltre affermato di aver sentito la stessa storia in più versioni. A voi, quindi, la conclusione. È sicuramente sempre necessario approfondire e verificare quanto viene ascoltato prima di riferirlo ad altri, perché anche una bugia, ripetuta centinaia di volte, rischia di diventare una mezza verità.